Un secondo incontro in prefettura è previsto l'11 aprile sulla situazione dei 38 oggi lavoratori alla preparazione dei passi della ASL di Teramo. Sindacati ieri preoccupati, cosa è cambiato? Chiaramente il numero è cambiato e questo è comunque un aspetto positivo, perché come diceva lei da 46 siamo già scesi a 38 ed è un aspetto relativamente confortante. L'incontro di ieri è servito soprattutto per incontrare la nuova proprietà della PAP, con la quale in settimana contiamo di rivederci, perché si sta cercando di capire quali sforzi possa fare l'azienda e quali possa fare la ASL per arrivare poi a ricollocare tutti gli lavoratori attualmente ancora fuori. Il prossimo incontro si terrà lunedì in provincia, perché ieri era assente la ASL e certamente in un ragionamento del genere l'ASL avrà un ruolo decisivo, così come lo avrà anche la regione con la quale ci siamo incontrati nella persona dell'assessore la scorsa settimana e quindi sia dalla regione che dall'ASL attendiamo quelle ulteriori risposte che noi riteniamo siano indispensabili per trovare la soluzione definitiva. Da dove nasce la vicenda? Perché non è dal cambio di proprietà della PAP? Sì, questa domanda mi fa molto piacere perché ci dà la possibilità di chiarire una volta per tutte che non stiamo parlando di 46 lavoratori interinali, perché in questa condizione queste persone si sono ritrovate dopo che nel 2014 la ASL fece la scelta di far passare in blocco queste persone su un'agenzia di lavoro interinale e oggi per questa scelta che noi consideriamo col senno di poi assolutamente proprio impropria queste persone si trovano messe alla porta. Chiaramente questa cosa non è accettabile, lo stiamo dicendo in tutti i modi possibili e immaginabili e respingiamo con tutte le forze possibili l'idea che si vuol far passare e che queste persone vanno considerate la stregua di interinali qualsiasi perché così non è.